Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo a parlare di zaini enormi, nel particolare vediamo il Deuter Air Contact in una versione 60 più 10 Un zaino come dicevo veramente grosso, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della sessione completa Iniziamo con una solita qualche caratteristica di questo Deuter Air Contact Per quanto riguarda la serie Air Contact troviamo diversi litraggi, 40 più 10, 50 più 10, io ho 60 più 10, c'è anche il 70 più 10 Tutte accomunate dalla tecnologia VarioFlex sulla fascia lombare e dalla tecnologia Air Contact sullo schienale Nel particolare nel mio 60 più 10 pesa 2,3 kg E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti Iniziamo come al solito dallo schienale di questo Deuter Per quanto riguarda lo schienale troviamo la tecnologia Air Contact Ovvero troviamo uno schienale con struttura diciamo ergonomica Quindi con uno schienale che va a diretto contatto con la schiena Ma fatto con una schiuma abbastanza traspirante Vi dirò tra gli zaini ergonomici è uno dei più traspiranti Schienale molto vicino alla schiena fa sì anche che abbiamo un ottimo scarico del peso E soprattutto lo zaino sia molto stabile Inoltre comunque diciamo che la parte che va ad appoggiarsi alla schiena non è così grossa È abbastanza ridotta, segue due linee verticali Questo fa sì che comunque ci sia anche un buon ricircolo d'aria Molto buono Nella centrale tra queste due linee abbiamo la tecnologia Vari Slide Che è quella che utilizza Deuter per far sì che noi possiamo andare a regolare in su e in giù I spallacci in modo tale da poter adeguare l'altezza del dallo schienale In base alla nostra altezza personale Continuando nella parte inferiore per quanto riguarda la fascia lombare Innanzitutto troviamo una fascia lombare con un'ottima schiuma Davvero anche là è molto traspirante Una fascia lombare decisamente grossa come dimensioni Ma non tanto grossa per quanto riguarda la chiusura C'è una circonferenza una volta chiusa Quanto proprio nella grandezza in sé nell'altezza del singolo fascione Questo è ottimo perché davvero fa scaricare benissimo il peso Davvero bene Io vi assicuro con questo Deuter ci ho portato 20 kg senza nessun problema Potrei andare anche decisamente oltre Probabilmente ci arriva ai 24-25 senza tanti problemi Fascia lombare come dicevo che scarica molto bene il peso Chiudibile nella parte anteriore con la solita clip che possiamo andare a tirare Unica cosa non c'è modo di poter riporre il cordame in eccesso E poi qua troviamo due tasche sulla fascia lombare Che sono enormi Veramente enormi Non ho mai visto delle tasche così grosse sulla fascia lombare Nel particolare poi quella di destra ha anche un'ulteriore taschina Che possiamo andare ad aprire tramite zip In cui possiamo andare inoltre a riporre una borraccia Così da averla nella parte anteriore molto facilmente raggiungibile Così da poterla riprendere e riporre in autonomia Ammetto che questa taschina mi è piaciuta tanto Nel senso io l'ho apprezzata tantissimo Ma non in questa posizione Qua dà un pochino fastidio Perché se mettiamo la borraccia più qualcosa all'interno Qualche oggetto all'interno della tasca L'oggetto va a finire in fondo quando tiriamo fuori la borraccia Dobbiamo tirare fuori tutto per rimettere la borraccia Diciamo che è un po' macchinoso Fosse stata messa nella parte posteriore dello zaino In basso sotto la retina dove mettiamo normalmente la borraccia Secondo me è stato decisamente meglio Bene che ci sia Ma la posizione non è proprio azzeccata Per quanto riguarda gli spallacci Questi anche loro fanno un ottimo lavoro Davvero Hanno una bella sezione ampia Cosicché non vanno a tagliare le spalle Molto traspiranti Sulla parte anteriore troviamo naturalmente La possibilità di andare a chiudere la fettuccia Così da scaricare sul petto Con all'interno anche il fischietto E poi sullo spallaccio di destra è possibile riporre anche gli occhiali In un'apposita piccola fettuccina Messa in dotazione Degli spallacci comunque abbastanza classici Che svolgono un ottimo lavoro Continuiamo con questo deuter Guardando la parte posteriore In particolare uno e due lati Vi preannuncio che i lati sono simmetrici Quindi ne vediamo solamente uno Innanzitutto cosa troviamo? Una bella tasca dove andare a riporre la borraccia E non solo Vi assicuro è una tasca veramente veramente grossa Per intenderci ci possono stare dentro delle borracce Anche da due litri Senza tanti problemi Io ci avevo messo dentro una borraccia di un litro Più la paleria della tenda E c'era ancora ulteriore spazio Quindi davvero delle tasche enormi L'unica cosa è che non si riesce a prendere la borraccia in autonomia Quando messa in queste tasche Ovremo farci aiutare Però davvero sono molto grosse E ci potrebbe portare all'interno anche un cavalletto fotografico Come vi dicevo sono molto grosse Ci potrebbero portare all'interno anche degli oggetti molto lunghi Questo perché nella parte superiore troviamo anche due clip Da poter utilizzare per andare a richiudere eventuali oggetti lunghi Ne troviamo una in basso a forma di V Che ci aiuta anche a ridurre la grandezza dello zaino Fa sì che la fascia lombare poi scarichi anche meglio E quella superiore Anche lei è apribile con clip Che ci aiuta a ridurre le dimensioni dello zaino Quando lo usiamo da mezzo vuoto Queste clip si possono togliere E nel particolare la clip inferiore Con la forma di V La possiamo riutilizzare nella parte posteriore in basso Per andare a portare degli oggetti all'esterno Ad esempio se abbiamo un materassino Dovremo staccare queste clip laterali Mettere nella parte posteriore per poterlo portare Perché nella parte posteriore in basso Non sono date delle fettucce in dotazione Ci sono i buchi per poter raggiungere Ma non ci sono le fettucce E visto che ne parliamo parte posteriore Come dicevo in basso c'è possibilità di portare oggetti all'esterno Nella parte superiore troviamo questa enorme tasca a rete Anche lei davvero grossissima Ci si può portare dentro un sacco di oggetti Solo lei è veramente molto grossa Comunque fatta di un ottimo mesh Che anche la lunga non si sta rovinando E inoltre riusciamo a portare i bastoncini Da parte posteriore Anche sdoppiandogli uno a destra e uno a sinistra Per quanto riguarda l'apertura ne abbiamo tre Una inferiore dedicata al saccopelo molto classica Una a metà zaino Per far sì che riusciamo a prendere la roba Messa nella parte bassa della tasca dello zaino Senza doverlo svuotare E una naturalmente nella parte superiore Classica Quella proprio classica con quale andiamo a riempire lo zaino Qui troviamo in particolare due laccetti da andare a tirare Uno serve proprio per chiudere la tasca E uno serve anche per chiudere la parte superiore dei 10 litri aggiuntivi Che all'occorrenza possiamo andare a sfruttare Per quanto riguarda la sacca dello zaino È divisibile in due parti La parte superiore e la parte inferiore per il saccopelo Volendo all'interno con una semplice zip Si può andare ad aprire o anche utilizzare la sacca unica Tornando alla parte superiore Per quanto riguarda il cappuccio Questo è un cappuccio flottante Vuol dire che si alza in altezza Anzi dobbiamo utilizzare quei 10 litri in più che vi dicevo Troviamo due semplici tasche Una esterna e una interna Con l'esterna veramente grossa Molto generosa In cui troviamo anche all'interno il rain cover Dato in dotazione E poi una più classica interna Per gli oggetti privati Che vogliamo tenere magari un po' nascosti Per quanto riguarda il comparto acqua Allora come vi dicevo Troviamo in dotazione il rain cover Che lo va a coprire totalmente All'interno c'è la possibilità di poter portare La sacca idrica Con possibilità di far uscire la prunga sul davanti E di borraccia ne possiamo portare davvero tante Perché abbiamo quelle tasche enormi laterali Due Più la taschina messa sulla fascia lombare Potete portare una borraccia da un litro Quindi sicuramente è un comparto acqua Bello bello strutturato Per quanto riguarda infine i materiali Questo è fatto con un nylon 235D Un nylon vi assicuro bello bello resistente Infatti a me sta durando davvero tanto L'ho strusciato contro rocce Ci ho fatto l'ho un po' maltrattato E sta andando ancora bene Vi assicuro che le cerniere davvero Sono fatte molto molto bene Delle ottime cerniere E in più come dicevo Due chili e tre Qua non andiamo a comprarne la dotazione completa Ma andando a togliere Magari qualche fettuccia Possiamo togliere anche le tasche sulla fascia lombare Diciamo si può un po' alleggerire Fino ad arrivare a un chili e otto Un chili e nove Alleggerito Arriviamo dunque alle conclusioni Per questo Deuter Air Contact 60 più 10 Innanzitutto viene venduto da Deuter A un prezzo di 300 euro L'ylon si può trovare sui 220-230 A qualcosa meno Ve lo consiglio Sì Mi sono trovato veramente molto molto bene Penso che questo abbia la miglior fascia lombare Tra gli zaini a 60 litri Che io abbia mai provato Davvero Un'ottima fascia lombare Che ci permette di poter portare un carico Peramente assurdo Forse anche fin troppo Tante piccole caratteristiche Delle tasche sui fascii lombari Veramente enormi Che dire Uno zaino che a me è piaciuto E uno zaino che personalmente Vi consiglio tanto Se dovete andare a fare Dei lunghi trekking O anche dei lunghi viaggi Dato ciao ragazzi Una speranza sia stato Esattamente esattivo Anche per questa recensione Vi ringrazio per la guardata E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao